Dove vi sembra di essere? Cosa è collegato a questo suono? Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi, lì, oggi, lì, oggi, lì. Voglio fare un video dedicato a un trigger che non penso di aver mai portato a un locale, questo trigger si chiama ear, orecchie, capping, orecchie, copertura delle orecchie, e un effetto molto particolare che si può ottenere attraverso, con questi microfoni. E visto che siamo ad agosto, e come ho anticipato pubblicherò solo video un po' più cool che semplici e incentrati sui trigger. Ho pensato a punto di guardarmi a questo suono. Quindi vi ricordo che ad agosto ci saranno dei video più corti, più semplici, ma che saranno regolarmente, quindi lunedì e lunedì, a 19.30, può darsi che 1 o 2 usciranno anche il mercoledì, non saprei ancora. Quindi mettetevi piace su questo trigger, vi piace, e datevi anche suggerimenti su che tipologia di video vorreste vedere in questo mese, quindi se avete dei trigger in particolare. E' stranissi. E' come se mi ascoltaste da sott'acqua, immaginate di essere immersi in acqua cristallina. E sentite questa voce che viene da lontano. Oppure ad esempio una voce che viene in sogno. Questo fondamentalmente è l'effetto che dà. L'avevate mai ascoltato questo trigger? Penso che in Italia ci siano pochissimi, pochissimi video con questo trigger. E' stranissi. E' stranissi. E' stranissi. E' stranissi. E' stranissi. Volevo chiedermi anche se io mi lascio lo sfondo Ho cambiato il colore delle luci Le ho messe un po' dal passo verso l'altro E devo dire che mi piace molto l'effetto Volevo chiedere Volevo chiedere Da orecchio 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 è molto bello è molto bello può essere molto bello può essere miocca più bello può essere mio Molto delicato, come questo, o può essere più forte, come questo, o ancora più forte come questo. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Penso proprio, penso proprio, penso proprio, penso proprio, penso proprio, penso proprio. si è aggiunto l'ora di tv l'ora di l'ora di l'ora di l'ora di e a curare a curare a curare a curare a curare a curare una una porada sonitor when I sn합 just like this I'm working buon noi con il naso buonanotte pastiggini buonanotte pastiggini buonanotte crostatine buon ragione buonanotte buonanotte che l'espera